Sanità. La candidata del Partito Democratico alla presidenza della regione Alessandra Moretti non molla l'osso dopo il botta e risposta tra il governatore uscente Luca Zaia e il premier Matteo Renzi. Renzi ha toccato un nervo scoperto, va all'attacco Moretti, e la reazione di Zaia è dettata dallo spirito di conservazione dell'attuale apparato. Troppe 22 USL in una regione con 7 province, dice la candidata del PD. Nessuno discute le punte di eccellenza del sistema sanitario veneto. Quello che non va è l'organizzazione delle USL. Averne oltre 20 vuol dire avere posti da dirigenti e da direttori generali. Capisco che questo faccia comodo alla vecchia politica, ma è ora di togliere soldi a questi carrozzoni. Moretti punta a ridurre le aziende sociosanitarie a 8. Il risparmio di spesa pubblica regionale che ne conseguirà, sottolinea, resterà nell'ambito sanitario. A cominciare dalle indennità dei posti da dirigente tagliati che torneranno, dice la candidata del centro-sinistra, nelle tasche dei cittadini sotto forma di meno tasse e più servizi. Ne beneficerà, conclude, anche la qualità dei servizi offerti. Basti pensare alle liste d'attesa. Un piano che si completerà poi con l'istituzione di un ambulatorio ogni 15.000 abitanti, 330 in tutto il Veneto.